Una coalizione di centrodestra per le prossime elezioni comunali, un'idea che viene accolta anche da Noi con l'Italia. La dirigenza provinciale di Noi con l'Italia, in sintonia con la segreteria cittadina, accoglie favorevolmente l'auspicio del capogruppo della Lega Oscar Aiello di creare una coalizione di centrodestra compatta anche a livello locale, al fine di presentare un programma unitario alle prossime amministrative del 2024, evitando di commettere gli errori del passato. Comincia così infatti il comunicato stampa. Il vice coordinatore provinciale Alfredo Fiaccabrino e il coordinatore cittadino Salvatore Sai, inoltre, ricordano di aver invitato a mezzo stampa, già lo scorso dicembre, ad un dibattito politico le forze locali di centrodestra. Nel comunicato si fa riferimento ai risultati delle ultime elezioni regionali e ad un percorso comune che possa rispecchiare la linea del Governo nazionale. Il direttivo cittadino si legge ancora, potendo vantare un fattivo sostegno a livello locale di persone competenti e disposte a lavorare a beneficio dei cittadini nisseni, è già pronto, in vista delle prossime amministrative, alla definizione di due liste di candidati al Consiglio Comunale, di conducibili ai valori che contraddistinguono il nostro modo di essere, nonché all'individuazione al proprio interno di degnissime figure, anche con pregresso esperienze amministrative, da porre all'attenzione della coalizione di centrodestra come ipotesi di candidato sindaco. E poi ancora si precisa l'obiettivo principale di Noi con l'Italia è dare un contributo serio e trasparente al fine di articolare risposte efficaci e tempestive ai problemi che affliggono ormai da troppo tempo la città di Caltanissetta. Il comunicato infine si conclude parlando di una riunione con gli alleati di centrodestra che verrà convocata a breve dal segretario cittadino.